Sì, sì, ce l'abbiamo fatta, grande vittoria, vittoria per 2-1 contro un'ottima Sampdoria, ma andiamo a vincere per 2-1 con i gol di D'Ambrosio, clamoroso, ha segnato D'Ambrosio, vabbè, sulla riga diciamo, però ha segnato D'Ambrosio e il gol, il gol di Raja Nainggolan, io ve lo ripeto, io ve lo ridico un'altra volta, non voglio nessuno sul carro di Nainggolan, nessuno. Perché mi ricordo tutti quelli che commentavano sotto, è scarso, è una pippa, tossico, alcolizzato, di tutto le hanno dette, invece Nainggolan sta venendo fuori, zitto, con il lavoro, lavorando duramente e si vede, si vede nel campo perché un altro Nainggolan, completamente un altro Nainggolan, si è rivisto, ha fatto uno dei suoi gol, bellissimo, fuori aria, una bordata, Audero non lo so, è stato un po' distratto forse, non so se ci poteva fare qualcosa oppure no, devo rivedere il gol. Comunque il gol del Ninja, ha segnato il 2-1 finale, che ci avevano pareggiato con Gagliardini, tra l'altro Gagliardini si risveglia, se sa, in Inghilterra una sega, viene in Italia e ridiventa forte, vabbè. Ci aveva pareggiato Gagliardini dopo due minuti dal nostro 1-0 di D'Ambrosio, pareggia Gagliardini, eh sì Gagliardini, Gagliardini. Gagliardini, e poi dopo tre minuti, rimette tutte le cose a posto, Raja Nainggolan, e godo, e godo tantissimo. Comunque, parlando della partita, è stata una partita per me bella, i terroristi dicevano una partita noiosa, invece, secondo me, se questa che era noiosa contro il Rapid Vien era la tagliasse di vene, Cioè, parlamoci chiaro, oggi mi sono piaciuti abbastanza, cioè, più o meno tutti mi sono piaciuti, forse unica nota stonata, non lo so, non riesco a trovare, un politano, forse politano non ha fatto chissà quale partita, cioè, il primo tempo ha giocato benino, anzi, forse bene, il secondo tempo è praticamente scomparso, quindi se vogliamo trovare proprio un capello di uno che ha giocato male, è male, di uno che ha giocato, diciamo, non benissimo è politano, quindi il resto è stata un'ottima partita, anche Gagliardini, nonostante è stato sostituito, mi sembra, i primi minuti del secondo tempo, ha giocato una buona partita, ha sbagliato dei palloni, ma, sinceramente, sembra un Gagliardini, buh, rinato, io, raga, però adesso mi vorrei soffermare un secondo, un secondo, scusate che mischia un po' i discorsi, ma mi è venuto in mente adesso, su Ivan Perisic, c'è Perisic, oggi ho rivisto Perisic di due anni fa, un Perisic rinato, Perisic che corre, Perisic che ha fatto una partita incredibile, e adesso mi viene da pensare, giustamente, allora il problema è Riccardi, allora il problema è Riccardi se Perisic giocava così male, poi, chiuso questa parentesi, ne apro un'altra, su Lautaro Martinez, allora, se Lautaro è quello visto oggi, lasciando stai gol, che segna o non segna, se anche se non segna, ma gioca così, sì, raga, Lautaro ha dei colpi fantastici, colpi che Icardi, personalmente, lasciando stare i gol che Icardi, adesso possiamo dire tutto quello che ci pare, ma dentro la rigore non si discute, però Lautaro ha dei colpi che Icardi non ha, quei colpi di tacco che fa al volo che, eh, raga, sembrano cavolate, ma servono, perché disorienti l'avversario e crea i contropiedi, e questa è la verità, Lautaro ha giocato benissimo, Lautaro ha lottato, ha fatto tutto quello che c'era da fare, grande, grande partita di Lautaro, tra l'altro noi tifosi sempre fantastici, anche oggi erano sopra le 50.000 spettatori, credo, più o meno, noi siamo sempre fantastici, nonostante tutto, noi ci siamo sempre, e niente, grande vittoria contro un'ottima Sampdoria, ci voleva, adesso non mi ricordo contro chi andiamo a giocare, scrivetelo sotto nei commenti, l'ho visto prima, ma non me lo ricordo, e niente, qui da Sampdoria tutto, facendo un mi piace e un commento, un mi piace, raga, e un'iscrizione, ovviamente, se siete soprattutto contenti del ritorno al gol del Ninja, io questo qui, raga, perché bisogna sfatare sto tabù di Nainggolan, Nainggolan è forte, cioè, parliamoci chiaro, adesso la stagione non è stata una stagione bellissima, ma Nainggolan è fortissimo, cioè, non scherziamo, non mettiamo in discussione Nainggolan, e oggi si è fatto vedere, recuperi, grinta, gol, più di questo, fidatevi, fidatevi di Spalletti, fidatevi della squadra, io Spalletti, sapete benissimo, non gli darò mai contro, l'ho detto dal primo video che è arrivato, e non gli ho dato mai contro, se devo dare, se devo criticare, lo critico, ma non gli darò mai contro, perché fidiamoci di Spalletti, fidiamoci. qui, prima di tutto, lasciate un piaccio e un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, sempre Forza Inter, sempre Forza Inter, amana, dai con sta vittoria!